Ci tenevo tanto, ci volevo essere e ci dovevo essere, perché io conosco la vostra carissima, bellissima insegnante, vi facciamo un applauso. Da quando era bambina, da quando ballava, proprio che era piccolina, era sempre ballato, e poi è stata sempre molto sprint, è una ragazza che ha sempre voluto fare le cose per bene, che ha sempre imparato, che ha avuto sempre spirito di iniziativa. E nel corso del tempo me la sono sempre ritrovata a tanti spettacoli, a tante manifestazioni, ma soprattutto me la sono sempre ritrovata come una ragazza davvero a modo. C'era bisogno di una sua realtà. E quindi noi oggi se siamo qui è proprio perché gli dobbiamo portare fortuna, perché quando un giovane e una giovane decidono di intraprendere un'attività come questa, hanno bisogno di tutto il nostro supporto. La cosa importante da dire è che io l'ho incostrata anche come ballerina, qui in primo mese è insegnante, ballerà con le allievi, ma anche come ballerina, gli spettacoli anche di calibro, con grossi nomi, ti ricordo? Che lei era ancora piccola e quindi continuerà ancora. Per me è la piccola, però fondamentalmente diventando grande c'era bisogno di una sua scuola, di una sua realtà, del suo gruppo. E siccome già la conosciamo, io non sono stato all'avvisaggio perché purtroppo c'è stato un qui pro quo, nel senso che prima sono in una data, poi in un'altra, e quindi ero impegnato. Però sicuramente quello che oggi noi stiamo vivendo diventa proprio il punto di partenza. Quindi io incrocio le dita e voi fate un grandissimo applauso a noi. Grazie.